Il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, ha partecipato questa mattina alla cerimonia di inaugurazione della mostra Quarto Savona 15, la Memoria in Viaggio, parte del progetto per la promozione della cultura, della legalità, della cittadinanza attiva e responsabile, organizzato dal premio Paolo Borsellino, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Associazione Falcone e Borsellino e Istituto De Cecco di Pescara. Quarto Savona 15 è il nome in codice dell'auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta dall'esplosione di Capaci il 23 maggio del 92, dentro la quale morirono gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. La teca, che contiene i resti della Fiat Croma, simbolo della lotta alla mafia, sta attraversando l'Italia portando ovunque un messaggio di legalità che è rivolto soprattutto ai giovani e sarà a Pescara, in Piazza Sacro Cuore, fino a lunedì 14 maggio. All'inaugurazione dell'esposizione erano presenti molti esponenti delle istituzioni, come il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero Derao, il presidente della Corte d'Appello dell'Aquila Fabrizia Franca Bandera, oltre alla vedova del capo scorta Tina Montinaro, promotrice del progetto e alla quale è stato consegnato un riconoscimento. Alla manifestazione inoltre hanno aderito 19 istituti superiori abruzzesi, che hanno portato in piazza migliaia di studenti.